Polonia, making the wolves quake as if they were deleting with a secret knowledge of great powers. Un emozionale contenitore sonoro per poter percepire e ascoltare i suoni dell'architettura. I materiali che compongono il padiglione, pareti di mattone, pavimenti di marmo e le sue forme rettangolari e simmetriche consentono al suono di trasmettersi all'infinito e le voci sembrano pervenire da ogni dove.